Sono Alessandro Pierguidi, sono italiano, una delle competizioni di Ferrari in GT Driver. Sono stato campionato mondiale nel 2017 e ho vinto alcuni dei più iconici 24 ore nei ultimi anni. Uno di loro con questo caro. Il mio interesse per il motosport è iniziato da quando ero un figlio. Ho iniziato a camminare il go-kart, insieme a mio padre. Il mio padre era la mia meccanica. Ho giocato come figlio con lego. Mi ricordo molto bene un set di tecniche lego. Il motosport era lavorato quando ero pinati i motosporti. Ho spinto alcuni giorni di tempo, ma ho piaciuto. E ho stato davvero satisfezato quando ho finito il modello. E funziona. Quando ho visto questo caro, mi sono stato davvero impressionato. E anche per leggere il mio nome su un modello di lego tecniche. Il mio caro. Ho stato orgogliato di questo, sinceramente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.